La Santa Sede segue con grave preoccupazione la situazione personale di Monsignor Pietro Shao Zumin, vescovo di Wenzu, in Cina, forzatamente allontanato dalla sua sede episcopale oramai da tempo e di cui non si hanno più notizie. Con una dichiarazione del direttore della sala stampa, Burke, la Santa Sede interviene sulla sorte del vescovo di cui non si hanno più notizie dalla sera del 18 di maggio. Alcuni fedeli temono che sia stato sequestrato dalla polizia e che sia sottoposto a forti pressioni per farlo aderire all'Associazione Patriotica e quindi alla Chiesa Ufficiale Cinese, controllata dal regime comunista. I rapporti tra la Cina e il Vaticano sono molto difficili, i maggiori motivi di contrasto sono la libertà religiosa e la nomina dei vescovi, questioni delicate sulle quali negli ultimi tempi si era riaperto il dialogo. Ora la scomparsa di Monsignor Pietro Shao Zumin e la dichiarazione della sala stampa vaticana sembrano una battuta d'arresto in questo difficile cammino. Da quando tre anni fa è ripreso il dialogo fra Roma e Pechino è infatti la prima volta che la Santa Sede interviene a proposito di un vescovo imprigionato.